Cinradio, l'ora di Ottawa, il postino. Sono orgogliosi di presentarvi, sabato 18 giugno, presso Sala San Marco, Bobby Solo in concerto. Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose. Sì, per la prima volta ad Ottawa, il leggendario Bobby Solo in un grande dinner concert, dal vivo, solo per voi. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. Sabato 18 giugno, a Sala San Marco, Bobby Solo con la sua band dal vivo presenta tutte le sue hits e tutto il suo rock and roll. Acquistate subito i vostri biglietti dall'ora di Ottawa, telefonando al 613 232 56 89. Ospite d'onore della serata, sua eccellenza all'ambasciatore d'Italia in Canada, Gian Lorenzo Cornado. Grazie a tutti.